Un bilancio che giustamente i consiglieri con i propri emendamenti hanno fatto proprio con interventi mirati al bene della collettività, con particolare attenzione per rivolto ai ragazzi con dei parcheggi che sono stati inseriti nel maxi emendamento perché non c'è la copertura nella prima presentazione, con attenzione alla farmacia sociale, con attenzione ai più deboli, con attenzione alla viabilità, con attenzione a quelli che sono degli interventi per il bene collettivo. Quindi un grosso applauso per questi emendamenti che hanno dato un'impronta molto più democratica del bilancio superando quelli che sono i soli numeri che giustamente all'interno di un bilancio sono presenti e che purtroppo sono vincolati da dei limiti fisici in base alle risorse. Quindi si è raggiunto questo importante risultato perché dà finalmente all'amministrazione uno strumento che è lo strumento quello economico per poter dare delle risposte al territorio. Non saranno sicuramente tutte ma cominciamo a dare le prime risposte. Credo che sia molto importante. Le parti fondamentali di questa manovra sono innanzitutto nel riuscire con grandi sforzi anche tecnici di mantenere quelli che sono i servizi essenziali e mantenere quindi una spesa di fatti corrente che serve per la menza scolastica piuttosto che per gli anziani o quelle che sono le spese ordinarie di questo end in un contesto di difficoltà in cui si trovano risorse che diminuiscono nel corso degli anni. Solo quest'anno l'incidenza è stata di circa 10 milioni in meno per cui gli sforzi in questa direzione sono notevoli. L'obiettivo raggiunto con questo bilancio è proprio quello di mantenere una spesa e consolidare una spesa importante per questo ente. Questo è l'obiettivo principale che ci siamo preposti e che con l'approvazione di ieri è stato raggiunto innanzitutto.